benvenuti bentornati su real napoli football ragazzi siamo alla terza partita di questa divisione 4 andiamo a cercare subito il nostro prossimo avversario iniziare abbastanza bene una vittoria un pareggio cerchiamo di continuare in questo modo nel frattempo come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video magari iscrivetevi al canale e soprattutto commentate a fine partita e farmi sapere che ne pensate di quello che avete appena visto vediamo qual è l'avversario di questa puntata ragazzi che vedremo se ci permetterà di tornare subito alla vittoria diamo un po procediamo attenzione in che senso il loro monteggio sa gitto gitto napoli nostro avversario egitto napoli attenzione oggi si va di maglia azzurra si va di maglia azzurra schema di gioco tutti forti bene così bene così 98 bene sostituti ci abbiamo anche un po di sostituti bene così ragazzi ah non ho messo un credino bene al match ormai andato non ho messo nata noi non ho rimesso nata e bravo ma già ricordata mo a no fra non lo vedo mai dovrei dici parte volta magari lo sfizio me lo tolgo si parte intanto l'attesa è finita si alza finalmente si parte partono subito forte loro con lo botca attenzione prendiamo palla di dischi dentro per anghissà palla per politano va dentro ancora anghissà palla per rosimena attenzione il portiere fa una mezza minchiata non riusciamo ad approfittarmi attenzione zierischi prova a tirare a io sto al portiere fuori dai vale porca puttana attenzione lautaro arriva mario lui anche no ma quest'ultimo è bravino attenzione zierischi balla per qua la schella se ne scende cavara 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 schella cross e mezzo simen calcio d'angolo ho rimesso dal fondo calcio dal fondo rimesso dall'angolo rimesso dall'angolo perfetto zierischi proverà andare da vittorosi men che prova a rimetterla dentro non ci riesce peccato qui lo botca si fa superare qui con un po letto attenzione arriva jesus palla verso meret che rilancia lungo verso vittorosi men che non riesce a metterla fuori racmani di lorenzo intanto si viene la stata abbattuto si meno loro provano andare one jesus allarga per giannino di lorenzo che la dà politano dentro per anghissà 1 2 se ne va matteo politano dentro per zierischi si ferma zielo gira zielo trope rosi men che non riesce ad arrivare al tiro attenzione zielischi la parata pazzesca di antonino pesa parata pazzesca ragazzi pazzesca tutto pazzesco attenzione zielischi proverà ad andare da vittorosi men attenzione vittor niente la farà anch'issà cavara schella zielischi non riesce a recuperare prende palla la botta vede dentro vittorosi men non ci credo stiamo spingendo maledettamente tanto ma non riusciamo a concludere per il momento raccomani palla verso victorosi men che si gira vittorosi ferma dentro per zierischi che entra vada anch'issà la palla non arriva zambo anch'issà bella azione qui attenzione raccomani proviamo a chiudere chiude giannino di lorenzo palla fuori attenzione raccomani suosi men chiude alla grande palla per anch'issà zielischi arriva grandissimo l'obbocca si rischi di osi men fa correre tra la schede ma clara 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 scena prossimo e mezzo arriva missa non ci credo ma vaffanculo ma il calcio dimensione la vi prego ebbe prego e ve ne prego però bene prego attenzione rilancio lungo lo botca niente da fare zierischi però ancora una gran palla la riperde subito però attenzione bellingham brutta questa transizione si meno meret la para facile rilancia lungo attenzione osi men anch'issà palla verso politano che l'appoggia dietro di lorenzo che la ridà a politano sulla fascia politano appoggia ad anch'issà dentro per zielischi che cerca osi men voleva doveva cercare invece anch'issà prova a ripartire legge attenzione one jesus raccomani chiude larga poi per mario lui scende mario lui vada a zielischi errore di mario qui one jesus prova a chiudere suosi men e chiude alla grande mario lui poi palla per zielischi che si gira e vada anch'issà che allarga per politano dentro per osi men che pro doveva rientrare dal fuorigioco e antoni lopez para facile e rilancia lungo come one jesus colpisce la grande osi men zielischi di esterno alla grande verso scena e poi antoni lopez ancora che cosa stava succedendo io il lancio di antoni lopez raccomani arriva di lorenzo di testa la grande osi men all'arga per matteo politano non arriva politano sulla palla domani chiude con lo botca su quella da giannino di lorenzo prova ad andare dentro a zielischi niente da fare il frattere giusto con ronaldo poi osi men chiuso da one jesus che poi fa correre zielischi dentro per anghissà e allunga sempre sta cazzo di palla arriva raccomani che allunga per quara schiena che fa correre zielischi che va subito dentro da osi men però si era un po' fermato l'inancio di antoni lopez attenzione raccomani si mette ancora davanti anghissà palla per politano che appoggia per di lorenzo lo botca anghissà politano prova ad andare dentro niente da fare raccomani regola palla alla grande poi appoggia per zielischi zielischi porca troia attenzione mario lui deve chiudere sull'autaro chiude mario lui sull'autaro e la dà lo botca proviamo a ripartire ancora lo botca appoggia per zielischi non riesco a ripartire bene attenzione anghissà quara schiena osi men dentro per politano che prova ad andarsene politano chiuso dai difensori cosi mente si mette dentro persa anche sa che prova ad andare dentro fermato un po di confusione raccomani appoggia per mario lui che allarga per quara scheli anticipato davanti al domani al domani moggio letta attenzione zielischi gran palla per osi men troppa fretta qui troppa fretta cresce il primo tempo con uno zero a zero che mi sta molto stretto ragazzi molto molto stretto fino ad ora molto molto stretto dobbiamo assolutamente provare a vincerla questa si riparte secondo tempo si man con jesus attenzione mario lui qua la scheda lo botca zielischi palla per osi meno troppo lenta attenzione osi men loro se ne va torna di lorenzo e non lo fa passare provo a buttarla fuori ma qui brutta palla osi men ma sembra così succede manca a me salvio manca a me penso infatti di toglierlo fra poco tra l'altro preso pure gol mario lui caraschelia zielischi ancora eroio di zielischi ma questa volta con un po di fortuna andiamo arriviamo da caraschelia caraschelia e volevo fare il gioco non mi è riuscito un po qualsiasi cosa volessi fare arriva raccmani arriva one jesus che la dà zielischi che appoggia ad anghissà la dà caraschelia dentro per zielischi errore ancora di zielo caraschelia dentro per zielo ancora niente da fare zielo caraschelia palla per anghissà che cazzo che non ho tirato ok i partiori alba di lorenzo di lorenzo riesce ad andare da politano anghissà dentro per zielischi che allarga dall'altro lato verso caraschelia si gira caraschelia spara difensore tiro rivedibile con la palla tra i piedi è pericolosissimo i difensori devono tenere sotto osservazione o li punirà siedischi dalla bandierina siedischi calcio d'angolo attenzione verso vittorio simen che prometteva dentro c'è di lorenzo ma c'è anche antoni lopez sempre antoni lopez all'estremo difensore ha mantenuto calma e ha reagito il lancio lungo di antoni lopez attenzione con one jesus che però contrastare osimen ci riesce a raccmani anghissà palla dentro per zielischi che no la ce l'ho one jesus palla per mairo lui caraschelia dentro ancora sporcata questa palla di cavara verso zielo attenzione ancora errore di zielischi anghissà osimen anghissà prova ad andare da politano dentro per victor osimen anticipato da antoni lopez per un millimetro raccomani anghissà errore di anghissà qui in impostazione ancora arriva raccomani anghissà zielischi palla per di lorenzo fermato col fallo che cazzo che le ha maglietta nero pensiamo di citturdo ciao allora ciao al che cambio allora stanno vincendo molto molto immeritatamente molto molto immeritatamente allora faccio così poi faccio così perché poi faccio così quante bestemmie mi state mandando perché sto buttando gaetano in campo ditelo quante bestemmie mi state mandando perché sto mettendo gaetano in campo in questo modo c'è lido sta forte non so se togliere cavara che stanco eh metto un po' l'instrom che dite glielo metterai l'instrom ma si dai ma si dai cavara è con questa qua però esatto va bene 85 ci sta ok ok e al massimo posso inserire olivera al posto del maestro no ma Mario lui sta già andando bene lo lascio si vola tutta la si la fisionomia della squadra lo botca chi la do lo botca va verso giacomino raspadori sbagliando totalmente ma provare a recuperare la seconda palla nemmeno attenzione caro mangesos raspadori va dentro da gaetano niente da fare osi man prende palla osi man osi man appoggia per elmas questa volta non mi sono fatto fare vai io vaffanculo elif elmas quest'altra non mi sono fatto fare e l'ho appoggiata per il gol facile di elif elmas 1 a 1 bene così ragazzi bene così giustamente ha cambiato delle cose secondo me più a livello di formazione se ne ripartono raccomani di lorenzo lo botca spazza per evitare problemi grossi attenzione ancora osi man va dentro ma dai voglio però io voglio c'è il suo scherzo come a merda il suo scherzo come a merda però avrò la migliata che la palla io voglio dai ragazzi dai mario lui raspadori appoggia per lo botca va dentro errore qui caciusti arriva che arriva a gaetano che va dentro da si mette spazio poggia per elmas che cazzo ha fatto elmas ragazzi che cosa ha fatto elmas mamma mia mario lui poi lo botca palla per gaeta no ragazzi cioè se è così la devo perdere se è così cioè ragazzi assurdo meret il lancio lungo di meret attenzione palla per osi man che prova a girarla per raspadori la palla non arriva a raspadori attenzione guange su spalla per raspadori incredibile gaetano recupera una gran palla gaetano dentro per giacomino raspadori per osi man raspadori osi man osi man osi man vittor osi man la ripareggiamo incredibilmente osi man 2 a 2 si vola che cazzo di partita attenzione di lorenzo tacco sbagliato ca giuste non riesce ad operare palla attenzione dentro raccomani non so che cazzo era ancora non fa niente meret attenzione lo botca raccomani qui non ci credo ma dai ragazzi ma siamo seri ma io non ho parole non ho parole Mario lui ancora dentro la palla non passa io non ho parole veramente attenzione gaetano palla per giacomino raspadori prova a rientrare raspadori ma dovranno darsi da fare per difenderlo one jesus palla per caciuste lo botca gaetano lo botca ancora gaetano entrato in maniera discutibile in partita palla poi verso ancora elmas niente da fare eh attenzione caciuste prende palla la dà a elmas di tacco ancora elmas perché perché caciuste ancora recupera palla gaetano palla verso osimene che si gira osimene vada giacomino raspadori mandai insieme raspadori verso antonio lopez brivido ancora incredibile brivido che si stanno attenzione gaetano palla per osimene che tira e ovviamente lui para elmas palla per di lorenzo che si gira prova il cross mamma mia ragazzi che cancro questo gaetano ancora dentro per osimene che vada elmas non arriva la palla elmas no ragazzi comunque sto perso una partita senza senso senza senso cioè proprio totalmente senza c'è la partita che ho perso è veramente allucinante raccomani palla per gaetano che vada osimene che la riappoggia gaetano osimene osimene gaetano elmas osimene non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo ragazzi no 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 voglio veramente cioè quando devi morire proprio quando proprio devi morire è bobo